Che cosa sta accadendo in questo paese? Secondo lei ci stiamo incattivendo? C'è un fenomeno di fondo che naturalmente è l'occasione per i cattivi pensieri e per chi semina cattivi pensieri, pensando di ricavarne un vantaggio elettorale di potere e così via. Sì, ci stiamo incattivendo, succedono episodi, ma non solo quelli che vanno sui giornali. Io ricordavo che ieri, ma quanti ne vedo, vorrei sentire, andiamo dagli insegnanti, andiamo dai genitori di bambini che sono un po' colorati e a farci dire cosa sta succedendo là sui campetti di calcio dove giocano assieme agli altri che fino a ieri c'erano mai problemi zero tra i bambini e i ragazzini e adesso cominciano a insultarli perché sono colorati, sono neri, che sentono in casa, perché sentono l'aria che tira. O sentono i genitori sugli spazi. Sentono i genitori, quando senti delle cose di non tornare a casa, devi andare, ti stupisci che un bambino su un campo di calcio gli dica guarda che arriva Salvini e ti rimandi in Nigeria a te. Ma secondo lei è solo paura o è veramente razzismo? Io dico questo, quando uno, invece dal partire del presupposto, io lo dico così alla gente, quella che incontro, dico scusa, dimmi una cosa precisa, ma tu sei dell'idea che se uno è per bene e si comporta bene non è né bianco né nero o sei dell'idea che se uno è nero anche se si comporta bene deve andare a sbattere da un'altra parte? Perché questa seconda si chiama razzismo. Non si chiama in un altro, io non ho altro modo per dire una cosa così. Io sono dell'idea che bisogna reagire. Cioè uno che vede che il suo bambino viene insultato così deve andare dai genitori, di quella lì, bussare la porta e dirgli adesso basta, adesso basta. e i preti in chiesa devono predicare e noi, io, eccetera, al bar se sentono delle stupidaggini devono reagire. Perché? Perché? Perché se no i cattivi pensieri sono facili, no? Guardiamo, i bambini ci dicono tutto, non se ne accorgono neanche, ma i bambini sanno essere cattivi, no? Magari possono essere cattivi con l'amico se è grasso e adesso magari sono cattivi perché è nero. E se la politica rende l'uomo un po' più umano, o sempre non vedo altra missione, bisogna reagire a queste cose qui e non c'è una questione di bisogno, e dirlo dicendo che non è questione di partito, tu vota chi vuoi, non sto dicendo che quel che dico io è di sinistra, quel che dico io è umano, perché se molli questi principi si finisce a botte qui, eh?